Non c'era niente, neanche la parola, per nominare il niente, un buio muto. Dio pronunciò una parola sola e disse luce, e appena ebbe parlato ci fu una luce, e buona gli sembrò. E disse cielo, ed il cielo fu fatto. E poi mare e terra pronunciò e l'acqua si rivise dall'asciutto. E vede che era buono, e disse allora, germogli, semi, alberi da frutto. Grazie. 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 Tutto era buono e il tempo eterno nel giro delle alti luci belle prese il ritmo della notte e il giorno e disse E il mondo fu ripieno di animali, grandissima abbondanza di viventi sulla terra i cammini e in cielo i fuori e disse E in un giardino apparvero due esseri viventi si videro e si presero per mano erano due ed erano contenti E in un giardino apparvero due esseri viventi apparvero e si temerò, si temerò per mano E in un giardino app VS Acts Per ma rifiore i cammini e in un giardino CE E in un giardinoispوna E in un giardinoности E in un giardino quelloManus Ed erano contenti, ed erano contenti, contenti. Adamo, l'uomo e la donna Eva vivevano nell'Ede, un giardino dove ogni fiore e ogni frutto cresceva, di pace e di bellezza tutto pieno. E Dio disse, in libertà godete i frutti di ogni pianta del giardino, ma della pianta che laggiù vedete il frutto vi è proibito, solo uno. Eva e Adamo furono obbedienti, mangiavano quei frutti saporosi, fra prati verdi e acque risplendenti, cantando canti e ridendo sorrisi. Bella e buona era la loro vita nella gran pace e luce del giardino, un'amorosa amicizia squisita, un tempo sempre nuovo, lieto e pieno. Ma il serpente che parla ed incanta chiede ad Eva, cosa vi è proibito? Un frutto, solo quello della pianta al centro del giardino, ci è vietato. E il serpente dice, lo sapete perché non vuole darlo anche a voi? Perché se di quel frutto mangerete diventerete, come lui, due dei. Ed il serpente parla e lungamente, con tono di saggezza e di bontà, con voce bassa, lenta e convincente, rivela la sua falsa verità. E poi il serpente lento se ne va, portando via la scia del suo fruscio, ed Eva, pensierosa, se ne sta in un silenzio insolito, non suo. Pensa e ripensa a quelle parole e si convince e prende dalla pianta il frutto, quello che Dio non vuole, lo guarda, lo annusa e poi l'attenta. Le piace quel sapore? Va da Adamo, gli porge il frutto e dice, come me, mangialo, e tu e te noi diventiamo. Su, mangialo, pericolo non c'è. Adamo in certo ricorda il divieto, guarda quel frutto, inarca il sopracciglio, lei dice, ora sappiamo il segreto, sappiamo ciò che è peggio e ciò che è meglio. E Adamo mangia, mentre il serpente ride nascosto sopra una pianta, ed ecco che nel giardino si sente Dio chiamare, Adamo si spaventa. Corre nell'ombra fitta di un cespuglio e resta fermo, e lo raggiunge Eva, muovendo rani e foglie in un subbulio, lui la guarda, lei lo guarda, schiva. Perché vi fuggi Adamo, disse Dio? Perché io sono nudo, lui risponde, ed Eva, impaurita, dice, anch'io. Ed io allora fa altre domande. Avete forse mangiato quel frutto, quello che vi è proibito? Allora Eva racconta del serpente, dice tutto. Ed io al serpente, tu, bestia cattiva, striscerai sulla terra, il nemico sarai di tutti e ti schiacceranno con il piede e la testa, questo dico. E a Eva dice, donna senza senno, poiché hai mangiato il frutto proibito, partorirai con molto dolore, e tu, Adamo, che hai disobbedito insieme a lei, dovrai lavorare la terra con fatica e suderai, e alla fine della tua vita polvere nella polvere sarai. Adamo ed Eva, dopo la caduta, scacciati dalla mano del creatore, vissero fuori da quel bel giardino, dovette roppinare e lavorare, e generarono Abele e Caino. Grazie. 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 Anche a voi lo sapete bene perché non vuole darlo anche a voi perché non in quel frutto mancerete, ti berrete come lui, tu e te, qui, qui. Ah, 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 ah. Lo sapete perché non vuole darlo anche a voi, lo sapete perché non vuole darlo anche a voi, perché senti quel brutto mangerete, diverrete come lui. Troete le uomini, diverrete come lui, troete le uomini, dei. E di serpente, parla lungamente, con tono di saggezza e di bontà, con voce bassa, lenta e convincente. Libera la sua falsa verità, libera la sua falsa verità. E poi il serpente lento se ne va portando via la scia del suo fruscio, ed Eva, pensierosa, se ne sta in un silenzio insolito, non suo. Pensa e repensa a quelle parole, si convince, e prende dalla pianta il frutto, quello che Dio non vuole, lo guarda, lo annusa e poi lo addenta. E piace quel sapore, va da Adamo, gli porge il frutto e dice, come me, mangialo, e due dei noi diventiamo, su, mangialo, pericolo non c'è. Adamo incerto ricorda il divieto, guarda quel frutto in arca e sopracciglio, lei dice, ora sappiamo il segreto, sappiamo ciò che è peggio e ciò che è meglio. E Adamo mangia mentre il serpente ride, nascosto sopra una pianta, ed ecco che nel giardino si sente Dio chiamare Adamo, si spaventa. Corre nell'ombra fitta di un cespuglio, resta fermo e lo raggiunge Eva, muovendo rami e foglie in un subburro. Corre nell'ombra fitta di un'ombra 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 fitta di un' Tu sono nuda, nuda, e risponde. E Dio allora fa altre domande. E Dio allora fa altre domande. Allora Eva racconta del serpente, dice tutto. E Dio al serpente. Dio allora fa altre domande. Dio allora fa altre domande. E Dio allora fa altre domande. E Dio allora fa altre domande. 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 questo dico, questo dico, questo dico. E Adamo e Eva dopo la caduta, scacciati dalla mano del creatore, vissero fuori da quel bel giardino. dovete rompenare e lavorare, e generarono Abele e Caino. Dio allora fa altre domande. Dio allora fa altre domande. e il fratello, e il fratello che si chiamava Abele era pastore, di spirito pacifico e tranquillo. Facendo i sacrifici, facendo i sacrifici, il pastore offriva a Dio dei doni molto ricchi di carni grasse, mentre il maggiore donava solamente frutti secchi. Così il pastore, che era generoso, veniva benedetto dal Signore. Caino, che dell'altro era invidioso, di lui si volle un giorno vendicare. Gli dice, Abele, vieni in campagna, ti mostrerò una pianta portentosa. Fidandosi, il fratello l'accompagna. Però solo Caino torna a casa. Ritorna solo, e siede a mangiare. Mastica il pane con la testa china. Parlano intorno, lui non vuol parlare. Curvo è il collo, e curva la schiena. Gli chiede qualcuno, lui dice... Non lo ha visto, non lo so. Non era insieme a te? Domanda uno. Lui scuote il capo e risponde... Dove? 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 Grazie a tutti. Gli risponde Caino, perché lo vieni a chiedere a me, perché lo vieni a chiedere a me, a me, a me. Forse che sono io il suo guardiano, il suo guardiano. Che cosa hai fatto? 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 Dice il Signore. Che cosa hai fatto? 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 Troppo è il mio peccato, troppo è il mio peccato Per ottenere la tua pietà, la tua pietà Da tutti io sarò perseguitato Da tutti la ventetta, da tutti la ventetta Mico tu, mico tu No, no, no No, no, se te volte, se te volte Se te volte, se te volte Si la ha condamnato, si la ha condamnato Chi ti darà, chi ti darà No, no, no No, 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 no No, no Così Caino partì per andare verso l'esilio e la sua dura sorte Il numero di persone Quello degli uomini cresceva E insieme a loro quello dei peccati Dio guardava gli uomini e vedeva Peccavano e non erano pentiti Allora si pentì della creazione e addolorato disse Io darò a quell'altà una punizione Quello che ho fatto Lodi suggero Lodi suggero Lodi suggero Lodi suggero C'era soltanto un uomo che viveva con cuore giusto Noè si chiamava Noè si chiamava C'era soltanto un uomo che viveva con cuore giusto Noè si chiamava con cuore giusto Noè si chiamava con cuore giusto E non quella cattiva Sem, Cam e Japheth erano i suoi figli Sua moglie e con loro le tre muore Seguivano Noè e i suoi consigli Soltanto loro Dio voleva salvare E Dio disse a Noè Soltanto loro Madre la tua famiglia Salverò Salverò Un'arca voi dovete costruire Quanta di tronchi di cipresso schietto Un'arca e un'altra tanto Un'arca voi dovete costruire Capitura Un'arca voi dovete costruire E si entrate Tui e tuei parenti La prima fai salire gli animali 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 Lei parte, torna e nel suo becco c'è un verde fresco trametto d'olivo La prima fai salire gli animali 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 Grazie. 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 Grazie.